Sarà realizzata a fianco della cavia del Lido Afano la nuova cabina Enel che servirà a tenere in funzione la vasca di raccolta delle acque di piazzale Amendola e mettere così fine agli allagamenti durante le forti piogge. La struttura che inizialmente era prevista in via dello squero Afano si sposta definitivamente con decisione approvata dalla giunta comunale in viale Cairoli. La cabina di trasformazione da media a bassa tensione è stata rivista anche nelle misure che passa dagli attuali 5,70 a 4,70 per un totale di 4. Sarà larga 2,50 come anche l'altezza. A fianco verranno realizzati altri due blocchi, il primo un inverter ovvero il motore per far partire l'impianto e infine un generatore che servirà solo in caso di blackout della zona per far ripartire le pompe in mancanza di elettricità. Un incontro costruttivo che gli assessori Barbara Brunori e Fabio Latonelli hanno avuto con i residenti e i commercianti della zona per chiarire una volta per tutte la nuova installazione e lo svolgimento dei lavori che richiederanno circa sei mesi. Quando ci siamo trovati in via dello squero naturalmente a pensarla in uno spazio di verde pubblico dove naturalmente andava ad uturpare quello che era un progetto di porto per cui ci siamo riadoperati a trovare un'ulteriore soluzione che tendo a sottolineare che non è che dipende dalla miglior posizione che noi possiamo individuare come assessori ma dipende da una posizione tecnica fattibile anche a tutti gli enti che sono preposti poi in questa collocazione. Inoltre Brunori ha sottolineato come questa cabina una volta conclusa verrà decorata e ben nascosta. Mi sento di dire che una volta mitigata in questo spazio con del verde ma anche poi degli arredi adatti a queste cabine sicuramente questo sarà lo spazio meno impattante. È chiaro che arriviamo a questa sintesi dopo diverse segnalazioni di cittadini per cui nell'ascolto e nella conciliazione questo è stato un ascolto attivo in tutti i sensi.